Le scuole bellunesi sono partite bene in questo avvio di anno scolastico che è stato caratterizzato dalla presenza in classe di tutti gli studenti. Questo è il commento a dieci giorni dall'avvio delle lezioni del dirigente dell'ufficio scolastico Massimiliano Salvador. Circa 270 sono state le figure nominate fra docenti e personale ATA per il nuovo anno scolastico con circa 640 docenti supplenti. Martedì 21 si sono concluse ulteriori nomine. Sono stati restituiti alle scuole, quindi per le nomine da graduatoria d'istituto, circa 200 posti per i personali docenti e circa 250 posti per il personale ATA. Permangono ancora delle problematiche per quanto riguarda le figure dei DSGA nelle scuole, in alcune scuole della provincia. Sarebbero circa una decina al momento i DSGA, ossia i direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola, mancanti all'appello nelle realtà bellunesi, ben un terzo delle scuole totali. Con luci e ombre dunque l'attività intanto prosegue e gli studenti sono tornati dopo i lunghi mesi di assenza a fare i conti con le classiche attività di tutti i giorni, fra studio, verifiche, interrogazioni e le esperienze formative di crescita generali che la scuola rappresenta. C'è un clima piuttosto disteso anche se c'è molta attenzione all'osservanza delle norme sulla sicurezza per evitare i più possibili contagi. Dal punto di vista sanitario sono 10 al momento, secondo l'ultimo report aggiornato a inizio settimana dell'Ulsa Dolomiti, le classi in isolamento domiciliare fiduciario che vanno dall'asilo nido alla scuola media. Nel fine settimana è atteso un ulteriore aggiornamento della situazione. Nel frattempo si arricchisce l'offerta scolastica bellunese. Il liceo Galilei Tiziano di Belluno ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione l'attivazione di un percorso di potenziamento triennale di biologia con curvatura biomedica, un percorso extracurricolare di 50 ore all'anno, le cui attività sono condotte da docenti interni all'istituto e da personale individuato dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Belluno. Le attività prenderanno il via già da ottobre. Grazie.